La ruota gira, età media 46 anni, uno su quattro e donna, spazio al territorio e alla società civile. Questo è l'identikit dei futuri onorevoli democratici. Sono state le primarie di Finano ad aver fatto il miracolo riempendo le liste di volti nuovi e giovani. Bersani parla di una vera rivoluzione rosa e vede un PD vincente che corre come una lepra lasciandosi dietro avversari politici ancora alle prese con nomi e curricula, mentre il vice segretario Letta precisa che su 38 capilista a Camera e Senato 16 saranno donne. Noi puntiamo a ottenere 400 parlamentari se vinceremo, 300 sono quelli che escono e che saranno usciti dalle primarie. La scelta fondamentale quindi in queste liste, la cui età media è di 46 anni, è quella di puntare a vincere. Puntiamo a vincere le elezioni, dopo le elezioni che avremo vinto chiederemo al centro, chiederemo ai montiani di sostenere il governo Bersani. Un fisiologico malcontento a legge sulle liste dei parlamentari, ma Bersani ha scelto la linea del rigore inserendo pochissimi nomi del suo inner circle, quei giovani della segreteria che ha sempre detto di voler mandare avanti, Stumpo, Puglisi, Zoggia, Fassina e Orfini, i turchi che hanno stravinto alle primarie. E poi spazio alla società civile, dal giornalismo con Mineo e Gotor, al mondo del volontariato con nomi come Edor Patriarche ed Ernesto Preziosi, alla lotta alla malavita con Grasso e Capacchione. E non manca un chiaro appello all'area dei moderati con la candidatura dell'ex DG di Confindustria, Gianpaolo Galli. Numero 2 nella lista lombarda della Camera. L'uomo giusto nel posto giusto, si direbbe, visto che la regione del Pirellone è decisiva per la maggioranza al Senato, come fa a notare Prodi, che oggi in un'intervista al Corriere della Sera ammette di intravedere un rischio 2006. E poi vanno registrate le delusioni più eclatanti. Quella del Renziano Reggi, che dichiara di essere stato escluso da liste per alcuni toni troppo alti quando coordinava la campagna elettorale del sindaco di Firenze, e quella di Riccardo Nencini, per niente soddisfatto dei tre posti ottenuti invece di dieci richiesti. Se queste sono le liste, ognuno per conto proprio minaccia il leader del PSI, che ha convocato una direzione per valutare il caso. Io credo che non bisogna scambiare singole delusioni per fatti politici. Abbiamo fatto liste che sono larghe, equilibrate e articolate. Credo che anche i nomi di esterni che abbiamo scelto sono nomi che chiaramente indicano un partito, il PD, che vuole rappresentare largamente la società italiana. Questo è il tema principale.